Dopo la bocciatura del Consiglio di Stato di aprile scorso si torna a parlare della bretella sud della tangenziale di Andria. La notizia è che l'amministrazione comunale ha scelto di impugnare qualche giorno fa nuovamente la sentenza, questa volta presso la Corte di Cassazione. Al centro del contendere in particolare c'è la delibera di Consiglio Comunale che ha dato per ben due volte nell'arco di due anni parere negativo alla variante urbanistica dell'opera. Quello che l'ente ritiene in sostanza è che ci sia un'importante ingerenza rispetto ad un tema come quello urbanistico che vede sempre il protagonista l'ente territoriale in questo caso il comune. Ma di questo aspetto si è parlato tanto anche negli scorsi mesi proprio alla vigilia delle sentenze di Tar prima e di Consiglio di Stato poi. Nel frattempo comunque il commissario ad acta nominato dalla prefettura ha già dato parere positivo come atto dovuto alla variante urbanistica malente comunale. Punta comunque a rendere il più complicato possibile un percorso che già di per sé resta complicato considerando che per realizzare i circa 10 chilometri di nuovo tracciato i fondi al momento disponibili sono circa di 20 milioni di euro e risultano essere decisamente insufficienti.